Siamo stati fortunati a uscire vivi da quella escape room. Devo sapere che i criminali che hanno ucciso quattro persone davanti a me risponderanno delle loro aziende. La loro sede si trova nel cuore di Manhattan. Dobbiamo fermarli. Ci sto. Lo so che ti sto chiedendo molto. Grazie di avermi accompagnato. Hai sentito? Ehi, ma che diavolo succede? Non lo so, il vagone si è sganciato! No! Oh, ditemi che è uno scherzo. Leggetemi! Benvenuti all'Eminos Escape Room. No, no, no. Sta succedendo di nuovo. Ci siete già passati anche voi. Quindi questo cos'è? Un torneo dei campioni? No, dammi uscire! Sappiamo già come funziona. O risolviamo gli enigmi o moriamo. Tirare via tutte le pubblicità ingannevoli. Questa pubblicità? A yourself manca una E. Dobbiamo tirare quelle che corrispondono alle lettere mancanti. Sì! Un gioco dell'impiccato. Emma! Forza, non abbiamo tempo! Quelle mancanti sono doppia pubi! Questa è più reale dell'altra volta. Qualcosa dobbiamo tentare. No, no, no! Ognuno di noi ce l'ha fatta per un motivo diverso. Io non ho avverto il dolore fisico. Immagina che razze di enigmi hanno ideato per quelli come me. Scatta una foto, durerà più a lungo. È un indizio. Guardate, sembra il faro della cartolina. afferra la sua mano! Afferralo! È finita. Non voglio più fuggire. Possiamo batterli al loro stesso gioco. Chi te lo dice che ti lasceranno libera di nuovo? Non voglio più! Devi fermarsi! Così moriremo tutti! Non giocherò al vostro gioco! Né ora! Né mai! È fatta! Ce l'abbiamo fatta! Ehi, non capisco. Siamo ancora nel gioco. Oh, no, no! Apparati! Aiuto! Ehi, non capisco.